Quello che finora era un timore sembra confermato anche dalla Farnesina. È stata la ministro degli esteri Emma Bonino a dire questa mattina che padre Paolo Dall'Oglio sarebbe davvero nelle mani di un gruppo islamista legato ad Al-Qaeda nel nord della Siria. Il 59enne gesuita romano profondo conoscitore del paese dove da oltre 30 anni si batte per il dialogo e la pace sarebbe stato sequestrato da un gruppo di estremisti nella regione settentrionale di Racca, una delle poche zone ancora nelle mani dei ribelli in questo paese martoriato dalla guerra civile. Capirete tutti le difficoltà ma non ci diamo per vinti, sono fiduciosa, ha aggiunto la Bonino. Il padre gesuita fondatore negli anni 80 della comunità monastica di Marmusa è sparito nel nulla il 28 luglio scorso quando era rientrato da poco in Siria da dove tra l'altro era stato espulso l'anno scorso dal regime di Bashar al-Assad perché considerato troppo vicino ai ribelli che avrebbe anche ospitato nel suo monastero. E proprio secondo alcune fonti dell'opposizione il gruppo che lo ha rapito si chiamerebbe Stato Islamico dell'Iraq e del Levante con i quali proprio dall'Oglio avrebbe tentato di aprire un dialogo per una trattativa di pace con i gruppi kurdi della zona chiedendo anche il rilascio di diversi attivisti finiti nelle loro mani tra i quali ora ci sarebbe anche lui. Ma la Bonino oggi ha parlato anche di un altro italiano sparito in Siria ad aprile, Domenico Quirico, l'inviato della stampa che a giugno si è fatto vivo per l'ultima volta al telefono con la famiglia in Italia. Vorrei dire a Quirico e a sua moglie che non ci diamo per vinti, ha detto la Bonino, senza nascondere però la preoccupazione per il buon esito della trattativa con i rapitori. La situazione ha detto è molto difficile perché i gruppi che combattono sono molto diversi, per questo i contatti si interrompono e riprendono fino ad ora senza nessun risultato.